Il Palazzo Apostolico I miei collaboratori della Curia Romana abbiamo trascorso giorni di raccoglimento e di intensa preghiera, riflettendo sulla vocazione saccia totale in sintonia con l'anno che la Chiesa sta celebrando. Ringrazio quanti ci sono stati vicini spiritualmente. In questa seconda domenica di claresima la rizzoccia è dominata dall'episodio della trasfigurazione. Nel Vangelo di San Luca segue immediatamente l'invito del Maestro, se qualcuno vuol venire dietro a me, reneghi si stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Questo evento straordinario è un incoraggiamento nella sequela di Gesù. Luca non parla di trasfigurazione ma descrive quanto è avvenuto attraverso due elementi, il volto di Gesù che cambia e la sua veste che diventa candida e sfolgorante. Alla presenza di Mosè ed Elia, simbolo della legge e dei profeti. I tre discepoli che assistono alla scena sono oppressi dal sonno e l'atteggiamento di chi, pur essendo spettatore di prodigi dovini, divini non comprende. Solo la lotta contro il torpore che gli assale permette a Pietro, già come Giovanni, di vedere la gloria di Gesù. Allora il ritmo si fa incalzante, mentre Mosè ed Elia si separano dal Maestro, Pietro parla e mentre sta parlando, una nube copre lui e gli altri discepoli con la sua ombra. E' una nube che, mentre copre, rivela la gloria di Dio, come avvenne per il popolo peregrinante nel deserto. Gli occhi non possono più vedere, ma le orecchie possono dire la voce che esce dalla nube, «Questo è il figlio mio deletto, ascoltatelo». I discepoli non sono più di fronte ad un volto trasfigurato, né ad una resta candida, né ad una nube che rivela la presenza divina. Davanti ai loro occhi c'è solo Gesù. Gesù è solo davanti al Padre Suo mentre prega, ma allo stesso tempo Gesù solo è tutto ciò che è dato ai discepoli e alla Chiesa di ogni tempo. E' ciò che deve bastare nel cammino. E' Lui l'unica voce da ascoltare, l'unica da seguire, Lui che salendo verso Gerusalemme donerà la vita e un giorno trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso. Maestro, è bello per noi essere qui, ed è l'espressione estatica di Pietro che assomiglia spesso al nostro desiderio di fronte alle consolazioni del Signore. Ma la trasfigurazione ci ricorda che le gioie seminate da Dio nella vita non sono punti di arrivo, ma sono luci che Egli ci dona nel pellegrinaggio terreno, perché Gesù solo sia la nostra legge e la Sua parola sia il criterio che guida la nostra esistenza. In questo periodo quasi male invito tutti a meditare assiduamente il Vangelo. Auspico note che in quest'anno sacco totale i pastori siano veramente pervasi dalla parola di Dio, la conoscano davvero, l'amino al punto che esso realmente dia loro vita e forme il loro pensiero. La Vergine Maria ci aiuti a vivere intensamente i nostri momenti di incontro con il Signore, perché possiamo seguirlo ogni giorno con gioia. A Lei volciamo il nostro sguardo, invocandola con la preghiera dell'Angelus. Angelus Domine Nunciavet Maria, Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictatum mulieribus e benedictus fructus ventus tui Iesu. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventus tui Iesu. e verbum caro factumis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictatum mulieribus e benedictus fructus ventus tui Iesu. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc ed in ora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetici, l'inieficiamo commissionibus Christi. Orrimus, grazie am Cionc Vesumus Dominimentibus nostris in funde, e che angelenunziante, Christi fili di Zincarnation con Iovimus, per passionem Ius et Crucem, ata Resurrectionis Gloriam per Ducamur, peri undem Christum Dominum nostrum, Amen. Gloria Patria, Filii et Spiritus Sancti. 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 Profitelibus defuntis requem eternam Dona eis Domine, per crescant in pace, Amen. Sitt Nomen Domini Benedictum, ex om nunc edusque in seculum, Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui veci celum et terra, benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Dolce sentire, come nel mio cuore.